Belen, estasi per l'Argentina, la cribole erogisce. La modella sudamericana è in estasi tifosa Iola dopo il trionfo dell'albiceleste al mondiale del Qatar, reazione a caldo. Il sangue non mente. E nelle vene di Belen Rodriguez scorre l'infa argentina. Nonostante da anni la modella sia stata adottata dall'Italia. Il bel paese lo ama. Ma la terra d'origine non si dimentica, mai. Con lei si ha un rapporto viscerale. Ancestrale, che sfugge a volte al pensiero razionale. Così, quando la propria nazionale arriva in fondo alla coppa del mondo. È inevitabile che il sangue cominci a ribolire. E se qua è l'ambito trofeo lo si vince. Beh è tripudio di emozioni, la sangue erogisce. L'Argentina calcistica è in festa. Il 18 dicembre 2022 è diventata una di quelle date da ricordare, pur ever.